Il PNRR e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono due sfide importanti che anche i geometri sono pronti a cogliere. Però non mancano le preoccupazioni che sono state espresse nel convegno Geometra 2030 che si è svolto all'Arto della Lecce alla presenza di rappresentanti nazionali della categoria e del ministro Raffaele Fitto. Vogliamo dire alla politica nel suo complesso quali sono i rischi che potremmo incorrere se vogliamo rispettare le direttive e questo è un aspetto fondamentale che bisogna fare da subito, altrimenti il tempo è tirano e non riusciremo a dare quella risposta che vorremmo dare. Alcuni risultati già si sono raggiunti, penso per esempio al fatto che sia il governo a dover mettere in campo una proposta, che non c'è nessun rischio di responsabilità di inadempienza per il singolo cittadino, che c'è una tempistica diversa per gli immobili che sono situati all'interno di centri storici che hanno dei vincoli, quindi mi sembra che ci siano già alcuni elementi che rappresentino delle possibili garanzie. Alla politica i geometri chiedono regole certe e una riforma strutturale dagli incentivi per raggiungere gli obiettivi previsti dalla direttiva europea, che chiede l'efficientamento energetico entro il 2030, ma il patrimonio su cui intervenire è enorme, evidenziano. A livello nazionale, su circa 18 milioni di immobili, con super bonus, solo 900 mila sono stati efficientati. In Puglia bisognerebbe intervenire in due edifici su tre. La direttiva europea bisogna rispettarla, però tenendo conto anche della situazione economica che versa l'Italia, che versano i cittadini in questo momento. Dobbiamo comunque ribadire i nostri punti fermi nella discussione che c'è a livello europeo e ribadire anche la nostra posizione abbastanza critica rispetto a quanto è stato messo in campo fino ad oggi.